buonamattina 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 e buonamattina e buonamattina e buonamattina e buonamattina di questo video di correzione sempre sui signorini e vi ritornerete ancora su Rekosix Siege in compagnia con i Gis allora primo fra tutti logicamente mi sembra di sottolinearlo è il rompicoglioni spaccacazzi di Justin ovviamente io ce l'ho meritato a pieni punti ecco perfetto poi abbiamo Fresh ciao abbiamo Tommy eccolo e poi abbiamo il nostro grandissimo esperto diremo chi ci cazzerà bestia proprio di che te verrà Dark Legion un applauso Dark Legion vediamo di noi lo giocare troppo sì uno di noi mamma mia questi giorni Rinko veramente mi fa incazzare provate provate di farlo possibile ok visto che abbiamo fatto brutte figure nei video precedenti ragazzi mi raccomando nel mio canale almeno serietà cattivo io ho proprio cazzuti fino in fondo bello mi raccomando te almeno uno con Termite se no ci fanno il culo ecco e Fresh risponde immediatamente alla richiesta grazie ma just in your mind non è con noi no no sì sì già sta con noi ma come ma scusiamo quanti siamo in quattro no? ok ora si può iniziare è per sette no capatapadu bene se non lo scrivo una persona che scrive così non fa sbagliato non si può iniziare non si può iniziare qui sopra no no ok sono è il primo piano eh è il primo piano eh è quello senso c'è trovi che è dietro da una persona con le gambe è pulso eh attenzione è pulso infatti ci sono pulso non ha ben quattro operatori con il c4 quindi io non si sceglie non riuscirò a resistere tanto non puoi stare sotto il treno cosa triste occhio qua davanti che è 18 ti lascio pisti la dicione le hanno veramente peggiorato Pritz si eh lentissimo cazzo qua c'è una finestra rotta attenzione eh vado apro qua eh ok vedo che non c'è il drone uno è sopra mi sa sento Jäger urlare la porta è stata abbaricata ah beh è vero sono tutti sopra ragazzi sono a secondo piano te è primo ok aspetta aspetta un refresh attimo vedete se c'è qualcuno sopra eh sicuramente sarà pulista nascosta da qualche parte probabilmente sopra delle scale però tu stai lì con lo scudo e comunque non c'è nessuno in quella stanza ma sono all'altra sinistra a ritiro dentro il cammino oh non sento più audio nel drone ok ok eh sopra sembra non c'è nessuno vedo spioncino il cammino tommi attento buon appetito eh sai che non hanno chiuso neanche la cosa andiamo sopra andate sopra ragazzi non hanno chiuso neanche la la sopra la sopra la sopra la sopra ok si l'ho ammazzato ok non l'avevo vista non l'avevo vista ok non l'avevo vista ragazzi non so dov'era l'ho messo sopra non l'hanno abbaricato delle camere killate aspetta aspetta ci pensi meh ma c'è che magari c'è più sopra si esatto posso controllate le scale eh non so che ho preso proprio no si vengono due ora è dentro il treno dentro il treno si ci si muove da qua io lo sfotto eh che sapevo pulse va al kill non ci sa pulse attenzione si infatti attenzione ottimo grande addirittura col coltello eh ma vado a po' spigliare vado 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 a spigliare non so che faccia vado a esplodere grandissimo da cazzo allora chi prendiamo chi prendiamo mi è il più forte eh difesa io non so chi prendono mi prendo frost così che stacca oh che cazzo tra l'altro non so che arma le ho messo che oh ok ok no io dovrei dovrei avere il pompazzone bello cattivo cazzuto siiii che bella vado a tutti una kill ok ok vado a tutti una kill arriviamo al 666 benissimo vado a fare una botta da sola camera lanciano le telecamere e ne e per me qualcun esplode vera male fai coincidenza bello non si parla che mi raccino fuori mi raccino fuori non si parla che mi raccino fuori eh chiudicolo dopo io chiudo qua ragazze non da troppo non bene pompa vai dietro al drone chiudo 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 ok io provo a campare su no scherzo no mancava muro qua non è lì, qua. Oh, c'è barricato. Oh, vengono dalla stanza a fianco, il museo. Hanno la sua finestra. Ho visto. Dalle scale nessuno. Mi hanno fatto esplodere lei. Tutti in assenza di fianco al cammino sono. No, ok, arrivano anche sopra arriva uno, giusto. Dalle scale? Uno. Dalle scale spero io se c'è qualcuno. Vai, spero, spero, che spacco. Dalle scale non c'è nessuno, ancora. Ah, mi hanno preso. Dove? Eh, c'era un altro. Oh, c'è capitato dalla finestra, è capitato dalla finestra. No, è tirato il pollo. Ragazzi, un altro dalla finestra, un altro dalla finestra. Ah, no, ok. Aspetta, aspetta, aspetta. Un altro, è nata. Ok, so dove, so dove, so dove. L'avete messo. L'avete messo. L'ho ucciso, l'ho ucciso uno è sopra. C'è Buck sopra. No, basta, basta, ragazzi, to' nato l'obiettivo perché non c'è nessuno l'obiettivo. C'è Buck che sta mirando fuori dalla finestra. No, no, occhio, occhio. Tommy, non andare lì davanti, c'è Buck e la finestra. Buck e la sinistra. Se ne sta andando ora. Ce non vedi la mia camera? No, 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 Tommy, non chiedi la C4. Oh, ce n'è uno. Stai mirando. Stai mirando. Eh, cazzo. No, raga. È entrato Buck, la finestra, Tommy. Ah, era sopra, sopra, sopra. È entrato dalla finestra, Tommy, ce l'hai uno davanti. Non te lo riesco a spottacolo. Beh, tanto appena entrano, non lo sento. Eh, sinistra, sinistra. Ce n'è un altro, ancora. Eh, tazzo. Tazzo. Eh, peccato, peccato, dai. Studentini, non neγ Potere. La magia. Ehm, andiamo a dire, sino... Le persone lo possiamo fare si siamo una a una e non lo so come sono in quattro ha reggibitato ma come ha reggibitato abbiamo perso prima la partita che uno aveva reggibitato non è fresh tu hai lasciato fuori quello che l'hai fatto reggibitare bello ok vallee ho capito perchè sono usciti ecco perchè sono usciti guarda guarda spot spot fai 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 questo qua fa un insta ha vinto la vita se fa l'ace io proprio esco tutti rodo l'ace dei poveri non manchi i poveri nooo non ha neanche il c4 questo non ha neanche il c4 per suicidarsi infatti non ha neanche il c4 non ha neanche il c4 non ha neanche il c4 sono usciti giusto che tende ad entrare non ha neanche il c4 ma io mi chiedo ma se esce una partita si se esce un se escono tutti i tizi della partita cosa succede si vince la partita stessa si vince la partita stessa che non è mai capitato ma io ho visto sempre che c5 gente usc ora ci diamo la manetta io con la baletta mi deve trovare una parita questo da Heat io ho visto i poveri io ho visto i poveri ehm guarda com'è il banano ehi Ah, c'è... Miega insulti. E vabbè, porca troia, c'hai mai, c'è... Povero. Ma io appusi il cazzo... Cioè, se siamo in 5 contro 1, sono casi i tuoi, cioè... Ma poi è come se fosse colpa nostra, capito? Come se fossimo tutti noi a farli cacciare, già. Sì, appunto, cioè, se vi autoshottate a vicenda, così, cazzi, i vostri, se quello volete da noi. Giraccio, sento io. Cos'è? Piccaccio dei rossi. Top. Comunque abbiamo vinto. Ok, allora, metto giù le armature, ragazzi, eh. Sica, 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 plia! E' l'attacco dei russi, del pikachu russo. Anche molto aperto. Ragazzi, ricordatevi sulle corazze, eh? Mi raccomando, non ti dismedicate. L'ho presa, no. Prezzo, no. Cazzo, magari si potesse baricare anche la bottola qua sotto. Eh? Te la parico io. Dobbiamo fare esplodere la bottola. No, brutto, ci hanno sgamato. Io ancora due muri, ma ne ho scelto a trattare. Cosa, non bui? Ci hanno sgamato, no. Non ci può, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Ah, sto calmo. Ma mi accanto con la tenda qua sotto. Ci devo dire. Con al tetto, ragazzi, chiama. Buona torta, fresh. Eh, sì. Sì, grazie. Buona. No, no. No, morire così, no, ragazzi. Non so, però. Un cornicione. Caminiamo così, andiamo. she clank azione kamikaze iniziata ah lì ci dico dark quindi non ha senso just dall'altra parte allora facciamo l'azione kamikaze Forse l'ha rotto il buon questo è luscio 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 oush sistema di difesa non scappa è meglio youtube ho sempre detto io stava facendo la live secondo me twitch just tu non mi vedi sto giocando io sono sull'obiettivo ma attenzione a me sa che stiamo facendo il giren cederli tutti qui c'è dark e io arrivato da lui ovvio ragazzi occhio su dentro l'obiettivo e the cock qua è dentro l'obiettivo scuola ma come fai schifo niente di niente come il tuo obiettivo ma l'ho fatto mazzare però è in testa bene bella ragazza bella lì ma cazzo va ma ti rendi conto che termite cioè sto qua ha ammazzato tra quarti di noi guarda ragazzi allora io dopo questa partitozza perché dovremmo vergognarsi comunque comunque chiudo il video quindi ragazzi se il video vi piaciuto mettete il piaccio commentate ditemi cosa ne pensate iscrivetevi sul gruppo dei gis che trovate su faccialibro e trovate il link in descrizione mi raccomando tutti quanti assieme appassionatamente mi raccomando e ci vediamo il prossimo video ragazzi potete salutare ciao ciao ecco il show a tutti i dai veloci che devo registrare che cazzo ciao 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 ciao